Grazie a tutti. E do anche un benvenuto, mi avvicino un attimo alla telecamera perché noi abbiamo delle persone che ci stanno seguendo in streaming. Quindi diamo il benvenuto agli amici di Bologna, di Media Labrera Online, diamo il benvenuto a Claudia, a Giuseppe e altri nomi che sono sicuramente in collegamento in questo momento anche nella pagina Facebook sia dello SMU che quelle delle biblioteche comunali di Perugia. Quindi un benvenuto anche a voi. Allora io mi presento, sono Claudia Cardinali e oggi pomeriggio insieme a Giulia Governa, Federica Rondini e Giada Rossatini vi esporremmo alcune cose che riguardano Media Labrera Online. Allora noi ci amiamo a chiamarci le social media girl delle biblioteche comunali di Perugia e nello specifico siamo le persone, le ragazze che curano tutti i contenuti web, social delle biblioteche comunali di Perugia. Ora, quando a maggio di quest'anno Massimo Santamicone, che in fondo alla sala, che è il digital strategist di Città in Internet, presentandoci nello SMU numero 9 sia il sito web che il gruppo Facebook, parlò della possibilità di ospitare il social media update. Che cos'è questo appuntamento? Logicamente ve ne parlerà Massimo. Noi eravamo lì e appena abbiamo ascoltato questa cosa abbiamo subito colto questa opportunità per portare questa esperienza nelle biblioteche comunali, perché crediamo molto nella sinergia, nella formazione in questi ambiti e quindi come PLAS abbiamo pensato di parlarvi in questo breve intervento di una possibilità che danno le biblioteche comunali di Perugia che è Media Library Online. Ora, che cos'è Media Library Online? Allora, nello specifico è la biblioteca, è la prima rete italiana di biblioteche digitali e raccoglie biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche e anche biblioteche accademiche di qualsiasi tipo e appunto vediamo in questa infografica questa rete. Mnol ha 5.000 biblioteche del quale fanno parte in questa rete, poi 19 regioni, sappiamo che l'Italia ha 20 regioni e quindi logicamente c'è la regione che non esiste, che sappiamo essere il Molise, però appunto noi tifiamo affinché riesca ad entrare anche il Molise in Media Library. E poi appunto anche in 8 paesi stranieri, tant'è vero che anche in Giappone l'Istituto Italiano di Cultura Italiana in Giappone ha Media Library Online. E questi sono i dati aggiornati al dicembre dell'anno scorso, praticamente più di 542.000 utenti hanno soffruito di questa biblioteca. Cosa dire? In genere quando noi iniziamo a parlare di Media Library ci piace far vedere questa infografica, che si è un po' datata, però tutto sommato ci fa percepire la similitudine tra quello che è il prima e quello che è adesso che viviamo nei social. Qui ad esempio vediamo la finestra che è YouTube, tant'è vero che noi sappiamo, almeno l'esperienza mia, è che quando io ho bisogno di qualsiasi cosa, una ricetta di cucina, mi si è rotto l'avvolgibile, devo sapere qualcosa anche dal punto di vista dei social, basta andare su YouTube e si trovano tutti i tutorial dei quali noi abbiamo bisogno. L'altra cosa interessante, noi sappiamo che Facebook in qualche modo non ha di fatto sostituito la nostra agenda quotidiana di amici, sicuramente però l'ha amplificata, tant'è vero che penso che è l'esperienza di ognuno di noi, che Facebook ci ha proprio allargato questa rete di amicizie. E allora sulla scia di questa cosa, Media Library Online, che cos'è? Di fatto per noi, per le biblioteche comunali di Perugia, rappresenta proprio una estensione della biblioteca fisica. E quindi queste sono le foto del sistema delle biblioteche comunali di Perugia, e quindi la Media Library Online, dove è possibile consultare del materiale. Allora, questa è una cosa che vedremo alla fine, a questo punto, entriamo subito nel... Eccolo qua. Allora, questo è come si presenta l'home page. E per accedere è necessario, allora, iscrizione gratuita alle biblioteche comunali di Perugia. In fondo al tavolo, in fondo lì e anche qui trovate alcuni moduli che potete prendere fin da ora, poi magari ci contattate anche per email, la rifaremo vedere. Una semplice iscrizione gratuita, dove semplicemente mettere un email, dove magari appunto potete anche iscrivervi, se volete, alla newsletter delle biblioteche comunali di Perugia. Con questa iscrizione non fate altro, riceverete nella vostra casella di posta elettronica l'username e la password, e quindi entriamo in Media Library. Allora, facciamo il login. E questo appunto è l'home page. Allora, oggi, logicamente, non possiamo fare un seminario di Media Library. Tuttavia vogliamo presentarvi, il nostro desiderio è quello di presentarvi tre gruppi di risorse che troviamo interessanti e che ci auguriamo che possano trovare il vostro interesse. Quindi parleremo di... Qui nel tavolino voi vedete che abbiamo messo appunto alcune cose fisiche, perché come Media Library Online, abbiamo detto, è similitudine proprio di una biblioteca fisica. Ad esempio, qui abbiamo alcuni giornali, che possono essere solo le 24 ore la mitica gazzetta dello sport, tranquillamente voi la mattina uscite, andate all'edicola, magari i più nerd vanno in biblioteca, oppure io passo adesso questo testimone a Giada, che ci farà vedere come i giornali possono essere visti in Media Library Online. Allora, salve a tutti. Come diceva Claudia, con Media Library sarà possibile consultare questi giornali comodamente da casa con una semplice connessione internet. Adesso vi faccio vedere come è possibile farlo. Vedete già nell'home page noi possiamo scegliere le tipologie di risorse che vogliamo consultare e in questo caso abbiamo più di 6.000 risorse di edicola che possiamo sfogliare. Già qui abbiamo nella pagina che ho aperto una panoramica delle risorse che sono presenti all'interno di Media Library. La gazzetta dello sport, che qui abbiamo visto in copia cartacea, è anche presente lì e è sostanzialmente quella che vedete, una edizione digitale della copia cartacea in cui è presente tutto. Ad esempio, vi faccio vedere il Sole 24 Ore. Lo potete cercare se non appare all'interno delle risorse che Media Library vi prospetta come le più lette e in questo caso potete sfogliarlo. Allora, come vedete Media Library ci reindirizza all'interno del sito del Sole 24 Ore in cui sostanzialmente noi possiamo leggere l'edizione di oggi e possiamo anche consultare tutti gli inserti che oggi sono stati editati insieme a questa edizione. Quindi sfogliando semplicemente con una lettura che rispecchia quella del giornale dal vostro dispositivo che può essere un device come lo smartphone o anche il tablet potrete leggere comodamente, addirittura zoomando o anche scegliendo di leggere un'edizione che non è quella di oggi ma che è un'edizione precedente perché come vedete è presente un archivio che vi permetterà sostanzialmente di accedere alle edizioni da giugno fino ad oggi. Di solito, diciamo, ricopre il tempo che riguarda un mese, l'arco di tempo di un mese. Oltre questo sarà possibile anche scegliere le notizie che cercate in modo molto veloce quindi piuttosto che sfogliarvi tutto il giornale per cercare magari la sezione che vi interessa qui con Media Library potete semplicemente cercare la categoria, cliccarla e venite direttamente riportati all'interno della pagina che volete leggere. Questo per quanto riguarda una testata, diciamo, nazionale che è quella del Sole 24 Ore. Ora vi presento invece un altro tipo di possibilità per poter leggere delle risorse che in questo caso sono risorse internazionali. Allora, se noi cerchiamo un'altra rivista, ad esempio, National Geographic che è una rivista appunto specializzata e di settore ad esempio qui abbiamo Storica National Geographic e se la vogliamo sfogliare, Media Library Online ci porta all'interno di un altro sito che è Press Reader, che è un aggregatore in cui sono presenti 9.000 riviste provenienti da tutto il mondo, quindi volete sapere quali sono le riviste che vengono editate nel Liechtenstein o magari in Bielorussia? Con Media Library potete vederle e consultarle facilmente. Come vedete la lettura avviene nello stesso modo, la rivista è tutta presente anche qui sono presenti delle barre in basso che ci permettono di vedere quali sono le sezioni che vogliamo consultare ed oltre a ciò è possibile anche scaricare la rivista. Questo in che modo? Allora, sostanzialmente noi possiamo creare all'interno di Press Reader un account. Come vedete in alto, noi ci siamo loggate con l'account delle biblioteche comunali di Perugia. Creando l'account voi potete sincronizzare le vostre letture nei vari device. Ad esempio, le letture si possono scaricare, come vedete da questo menu a tendina, scaricare all'interno del proprio smartphone. Rimangono disponibili offline per circa 7 giorni. Se vi riconnettete potete scaricare gli inserti o gli aggiornamenti che vengono pubblicati nei 7 giorni in cui siete offline oppure potete anche leggere la rivista dal vostro e-reader. Quindi scaricarla in formato e-pub o in formato pdf nel formato più performante per le vostre peculiarità di lettura e averla sostanzialmente sempre con voi disponibile. Oltre a questo, una cosa particolare che ci ha fatto un po' sorridere in ufficio riguardava la possibilità di ascoltare la rivista attraverso un sintetizzatore vocale. Quindi pensate, magari siete in macchina, dovete fare un viaggio lungo in treno e voi vi sentite un articolo anziché leggervelo comodamente senza dover avere molti dispositivi con voi o il giornale cartaceo. Ma la cosa interessante con cui chiudo questo piccolo intervento è rappresentata da tutte le pubblicazioni che sono presenti all'interno di questo aggregatore. Sostanzialmente qui vedete tutti i paesi da cui possiamo attingere con le riviste che vengono pubblicate e quindi le risorse che sono presenti. In questa home feed potete vedere che sono presenti sostanzialmente le riviste che sono più lette. guardate, vi faccio vedere scorrendo queste sono alcune di quelle disponibili per l'Italia e poi sono presenti anche per esempio le letture che sono state fatte di recente noi abbiamo guardato alcuni giornali che riguardavano argomento SMU, quindi magari social media, computer ultime tecnologie, guru magazine, giornali australiani ci siamo un po' sbizzarrite per conoscere le risorse. Oltre questo, l'ultima cosa che vi dico riguarda il lato social di Press Reader perché creando un account potete anche creare una piccola community vedete che qui io sono entrata in un'altra schermata in cui sono presenti gli articoli che ho letto oggi gli articoli più letti e più commentati e io stessa posso scrivere delle opinioni e quindi dialogare con altre persone che magari si trovano in Australia, in America o in altre parti del mondo su degli argomenti che magari, diciamo, questo sostituisce un po' le chiacchiere che si possono fare al bar quando uno legge il giornale qui comodamente da casa virtualmente si possono scambiare delle opinioni con altri lettori. Adesso passo la parola a Federica che ci parlerà di un'altra importante risorsa di Media Library che è rappresentata dagli ebook grazie grazie Giada come vedete quando noi pensiamo a una biblioteca fondamentalmente pensiamo subito a dei libri e infatti Media Library Online è la nostra biblioteca digitale infatti io vi farò vedere la possibilità interessante che ci offre Media Library di leggere libri tramite ebook e quindi andiamo subito a vedere su Esplora torniamo a Risorse andiamo su Tipologie e vediamo gli ebook allora praticamente dovete sapere che Media Library implementa giorno dopo giorno le risorse ebook infatti dovete immaginare che la settimana scorsa avevamo come ebook sui 24.400 oggi siamo arrivati a 24.540 e inoltre abbiamo più di 300.000 risorse libere come facciamo a scegliere un libro? io ad esempio solitamente sono portata a vedere la copertina una volta che ho guardato la copertina vedo se effettivamente l'argomento mi interessa adesso andiamo a vedere che Giada mi ha consegnato questo libro che è fresco di catalogazione infatti ce l'hanno catalogato oggi è una delle novità non soltanto letteraria italiana ma proprio anche una delle novità della nostra biblioteca e abbiamo osservato che praticamente è anche già presente su Media Library allora innanzitutto se vogliamo avere delle notizie in più sull'autore del libro possiamo vedere cliccare qua e vediamo subito che ci rimanda delle informazioni sull'autore che rimandano anche alla pagina Wikipedia e quindi possiamo avere subito delle informazioni base sull'autore ma andiamo proprio a vedere di che cosa tratta il libro allora qua sotto come potete vedere c'è una piccola descrizione e da qui a volte viene fatto un piccolo riassunto appunto del libro oppure vengono riportate tutti quei commenti che vengono fatti sui giornali riguardanti il libro a volte troviamo anche l'anteprima e l'anteprima solitamente porta i primi tre capitoli dell'opera di modo che noi possiamo leggere l'opera vedere se ci interessa e poi appunto acquistarla ma come si fa a scaricare un ebook? quindi andiamo sulla parte sopra che è appunto questa qua in alto scarica ebook il procedimento fondamentalmente è molto semplice ci sono riuscita anche io quindi vi assicuro che è molto semplice innanzitutto spiega la guida all'uso ci dice che dobbiamo creare un account adob proprio perché gli ebook sono tutti protetti da una licenza che è l'IRM questo perché? perché Media Library ha stipulato una modalità per garantire diciamo una licenza appunto anche con le nostre case editrici italiane infatti dovete sapere che c'è un accordo tra Media Library e le più grandi e le più importanti case editrici quindi possiamo trovare Mondadori la Giunti la Feltrinelli e chi più ne ha più ne metta una volta che appunto abbiamo creato il nostro account scarichiamo gratuitamente poi possiamo installare Adobe Digital Edition una volta che appunto l'abbiamo scaricato ci autentichiamo infine ci fa scegliere il formato da scaricare per l'ebook Media Library fondamentalmente consiglia le pub perché? perché è il formato che si adatta meglio al diciamo anche per persone come me ad esempio io sono miopia stigmatica quando vado a leggere posso zoomare posso grassettare posso sottolineare e vi assicuro che è un gran vantaggio detto ciò andiamo ora a vedere quanto può durare il periodo del prestito noi in un mese possiamo scaricare due download e ci dura la lettura proprio dell'ebook per 14 giorni al quindicesimo giorno l'ebook viene appunto ripreso tranquilli per chi come me ad esempio è lento nella lettura non ci sono problemi perché al quindicesimo giorno possiamo riprenotare lo stesso libro oppure nel caso in cui ci sia un libro che è già stato prenotato precedentemente da altri utenti possiamo comunque prenotare il libro e metterlo diciamo nel nostro carrello e poi una volta che l'utente ha finito di leggerlo e l'ha restituito lo possiamo prendere noi adesso detto detto questo vi lascio diciamo ad una nota molto più divertente musicale e infatti passo il testimone a Giulia che vi parlerà di musica quindi sicuramente è un aspetto molto interessante e anche simpatico grazie fedi vediamo infatti ora non solo la musica ma un altro paio di risorse che non ci saremmo mai aspettati di trovare in biblioteca un'altra possibilità infatti che viene data da Media Library Online è quella di creare delle playlist o di scaricare degli mp3 vediamo infatti che tra le tipologie a nostra disposizione abbiamo dei file audio anche in questo caso Media Library si appoggia in realtà a dei siti esterni perché ovviamente era un troppo materiale da poter avere a propria disposizione e in questo caso il sito esterno è Naxos si tratta di un sito che in realtà al suo interno soprattutto musica di nicchia quindi musica classica orientale oppure diciamo ambient la cosa più interessante in realtà è data dal fatto che ognuno di noi può creare una propria playlist da poter consultare poi in streaming a prescindere dai vari dispositivi di cui usufruiamo e in particolare c'è un'app mobile che può essere scaricata e quindi avremo a nostra disposizione tutta la musica che ci può interessare in realtà l'elemento ancora più caratteristico di Mlol è dato dalla possibilità di scaricare in modo assolutamente gratuito e legale file mp3 anche in questo caso Mlol si appoggia a dei siti esterni in questo caso è Freegal che è un sito che è un aggregatore sia di video che di audio che di corsi e learning e tramite questa casella di ricerca noi possiamo ritrovare praticamente tutta la musica di cui abbiamo bisogno mi è stata fatta una richiesta in realtà dalle mie colleghe quindi ora troveremo un pezzo intramontabile mi raccomando cliccate sempre sul genere qualsiasi nel caso di dubbio altrimenti non avreste alcun risultato quindi una volta ricercato il file mp3 venite rimandati in quest'altro sito e voi da qui che cosa potete fare potete decidere se scaricare immediatamente la canzone oppure aggiungerla alla lista dei desideri questo perché come vedete in alto voi avete a vostra disposizione tre download settimanali dove settimanali si intende settimana solare quindi da domenica a domenica in questo modo voi potete creare in un brevissimo tempo una piccola libreria audio sempre a vostra disposizione perché a differenza di quello che avviene per i file ebook questi file rimarranno sempre sempre con voi quindi non scadrà mai la licenza vi lasciamo con un'altra risorsa che in realtà ci ha particolarmente stupito e divertito ossia la possibilità di accedere tramite mlol a un'altra tipologia molto particolare ossia i videogiochi quindi nel caso in cui siete in ufficio e volete cinque minuti di svago oppure siete particolarmente nostalgici vi consigliamo spassionatamente di dedicarvi cinque minuti per voi stessi e magari concedervi una piccola partita a Pacman e con questo vi saluto bene quindi vi abbiamo illustrato questi tre gruppi ricordiamo i giornali i libri e anche la musica allora un'altra vi lasciamo perché appunto non è che possiamo esaurere tutto quanto il discorso di media library ritorniamo indietro perché abbiamo preparato una risorsa che potete vedere tranquillamente poi a casa abbiamo preparato una lista torno indietro andiamo giù lì ok sì allora se qui appunto andiamo nelle liste come biblioteche comunali di Perugia qui tra le novità perché l'abbiamo proprio implementata oggi e continueremo ad implementarla una lista che si chiama SMU dove all'interno abbiamo inserito alcune risorse che riteniamo essere interessanti in onore dello SMU quindi a questo punto io vi salutiamo vi ringraziamo per questi minuti che ci avete dedicato e passiamo la parola a Massimo Santamicone che è il motivo probabilmente per il quale voi siete venuti allo SMU prego Massimo grazie